Signore e signori, dal Sud America, i Magnifici Otto! Modare, autostop, statuto, camminare, modare, scinare, try, manso, laxon, adoro! Adoro! Ok! 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 Caldare, autostop, statuto, camminare, modare, scinare, try! No, 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 no. No, 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 no. E magnifici otto! A gioco questo gruppo, a gioco, a gioco. Eh, continuiamo a me, dai. Eh, va bene, dai. No, no, blocca a me. Guardiamo questo, dai. E questo va su YouTube. Grazie a tutti.